Buongiorno, focus bollettino cultura erbace, aggiornamento. Notue. È arrivato il momento di andare in campo nel Veneto occidentale, in particolare delle province di Vicenza e di Verona, a controllare i livelli delle popolazioni di notue. È stata raggiunta infatti l'assommatoria termica in queste zone che consente lo sviluppo del quarto stadio larvale, il primo che causa danno alle culture suscettibili, quali mais, vietola, girasole, molte orticole. È particolarmente importante stare attenti, osservare con attenzione perché le notue in poche notti possono causare un danno rilevante, tale da ridurre la produzione delle culture suscettibili. Qualora si superi la soglia, 5% delle piante attaccate nel mais, si deve intervenire prontamente, possibilmente alla sera, con alti volumi d'acqua e con un insetticida registrato per la cultura considerata. Nell'osservare gli appezzamenti, ricordate quanto abbiamo detto nei precedenti bollettini, osservare soprattutto gli appezzamenti che avevano copertura vegetale durante i primi voli delle nottue o che avevano anche residui organici in superficie che sembra rappresentare un ulteriore fattore di rischio di danno da notte. Attenzione perché è il momento di controllare e di intervenire tempestivamente. Seguite i bollettini che vi aggiorneranno ulteriormente e che vi daranno anche consigli più puntuali. Frumento, malattie fungine, attenzione siamo ormai in fase di emissione delle spighe e quindi siamo prossimi al trattamento che deve proteggere dalla fusariosi nel periodo completa emissione della spiga a fioritura. In questo caso seguite bene il bollettino, osservate la tabella con le coperture che danno rispetto alle malattie che danno i prodotti a disposizione perché a seconda delle zone e del rischio di malattia, del malattia fungina principale che avete nelle diverse zone, sceglierete il fungencida più adatto a garantire la migliore copertura dalle diverse malattie fungine che in quel momento costituiscono un rischio. Buon lavoro e alla prossima puntata.